Mi trovo a Taranto, al quartiere Tamburi, via Basta, angolo via Basento, un'area che è molto trafficata dal momento che c'è la chiesa San Francesco dei Geronimi e c'è soprattutto la ASL, quindi molta gente transita, passa da queste parti. Vedete la segnaletica orizzontale, le strisce pedonali, per capirci, non esistono, assolutamente inesistenti. Guardate qui, le persone che entrano, devono attraversare per forza la strada per andare all'ASL e, povere loro, non esistono le strisce pedonali. Stessa cosa, dicasi qui, via Basento, stessa cosa in tutte le altre stradine, diciamo, limitrofe. Assurdo. Si parla tanto di sicurezza stradale, è vero Assessore alla Polizia Municipale Ciraci? È vero Sindaco? Ma non vi è mai venuta l'idea che i cittadini dei tamburi devono avere gli stessi standard di sicurezza di tutte le città italiane, perché in altre zone della città le strisce pedonali sono carenti, anche molto spesso carenti, ma forse più o meno, forse meno che più ci sono. Qui zero assoluto, assoluta assenza di strisce pedonali. Ripeto, penso magari qualche farabutto che scappa, che prende velocità e penso alla nonnina che attraversa la strada, appunto, per andare all'ASL e rischia di essere travolta, perché non esistono le strisce. È un qualcosa di incredibile. succede soltanto a Taranto con questa amministrazione incapace di amministrare. Davvero incredibile. Ma non c'è, credetemi, una traccia, un punto, un pelo di striscia pedonale. Come si fa? Cioè, proprio significa che l'amministrazione comunale ignora il quartiere Tamburi, lo ignora completamente. Guardate, qui di fronte a me, azienda unitaria, unità sanitaria, locale Taranto 1, ASL Taranto 1, distretto sanitario 4. Quindi la gente qui va per forza, cammina, perché purtroppo in un quartiere dove l'inquinamento è alle stelle, l'utenza sanitaria è particolarmente elevata come numero. Guardate, zero. Zero. Qui, zero. Ciraci? Dove sei Ciraci? Se ci sei batti un colpo. Sindaco Melucci, dove sei? Se ci sei batti un colpo. E anche voi consiglieri di maggioranza che avete pescato voti al quartiere Tamburi, penso a Mazzariello, penso a Odone, penso a altri che hanno legittimamente ottenuto consensi. Ah già, dimenticavo, al quartiere Tamburi opera molto il consigliere Antonio Lenti, massimo rispetto per lui. Antonio, da quando tu difendevi i diritti degli abitanti dei Tamburi con il megafono, è passato parecchio tempo, dille queste cose al megafono. Dillo che il tuo sindaco, quello che tu hai appoggiato e stai appoggiando, non si interessa proprio della sicurezza dei cittadini. Dillo Antonio Lenti, dillo. Beh, non vi viene l'idea che gli abitanti del quartiere Tamburi meritino, meritano quantomeno le strisce pedonali per non essere investiti. Chiediamo tanto? Voi che difendete tanto il sindaco Melucci queste cose, non le vedete? Cioè le vedete ma non vi conviene dirle. Meditate cittadini, qui prima o poi ci scapperà il morto e ci sarà davvero da piangere. Ricordate queste parole e conservate questo servizio, archiviatelo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.